Due richieste di rinvio a giudizio per il tragico incidente che si consumò lungo la strada regionale 71 nel quale perse la vita Linda Cecconi, 41enne dipendente del comune di Arezzo. Ad avanzarle la PM Laura Taddei che ha formalizzato le accuse nei confronti del camionista che travolse la donna e di un automobilista che procedeva su quel tratto di strada. I capi di imputazioni ipotizzati sono rispettivamente omicidio stradale e concorso in omicidio stradale. Nei prossimi giorni sarà fissata l'udienza preliminare e il gruppo sarà chiamato a decidere. I due imputati potranno anche chiedere di essere giudicati con procedimenti alternativi come ad esempio il rito abbreviato che consente in caso di condanna lo sconto di un terzo della pena. Erano le 8 del mattino del 26 ottobre 2022 quando si consumò la tragedia. La donna stava percorrendo con la sua lancia Y la regionale 71 in direzione Arezzo per andare al lavoro. All'altezza di Marcena fu travolta da un mezzo pesante che si intraversò sulla carreggiata, un violentissimo impatto che non le lasciò scampo. A far luce sull'esatta dinamica furono i successivi accertamenti. La consulenza tecnica stabilì che il camion dopo aver sorpassato un'auto colpì la vettura che precedeva quella della 41enne. Nell'impatto uno pneumatico scoppiò e il camion travolse l'auto di Linda. All'automobilista che precedeva la 41enne è invece contestato di aver viaggiato a velocità sostenuta non tenendo strettamente la destra.